buonasera buonasera a tutti buon anno buon anno facciamo il fatidico classico augurio di buon 2023 e proprio a proposito di questo mi veniva da pensare in questi giorni quando chiaramente la maggior parte della gente manda gli auguri standard buon anno felice 2023 che sia un 2023 pieno di con tante cose belle con e ovviamente il l'intento è positivo no è quello di augurare il meglio ma è sempre quella la riflessione che mi viene infatti io tendo a fare poco gli auguri di nuovo anno perché sostanzialmente c'è sempre questa tendenza a sperare che sia un anno migliore di quello precedente che vada tutto bene che non ci siano problemi e la cosa fondamentale ancora una volta è la de responsabilizzazione nostra cioè tutto dipende da noi spetta a noi fare di quest'anno un anno bello un anno degno di essere vissuto un anno che nonostante i problemi che ci presenterà perché ci saranno come ci sono tutti gli anni più o meno impegnativi possa però essere un anno di cui noi cogliamo il meglio o un anno in cui noi costruiamo qualcosa di veramente interessante per noi perché ci sta vicino in cui realizziamo un nostro sogno in cui riusciamo a portare a termine un obiettivo in cui ci impegniamo per raggiungere qualcosa che vogliamo fare da anni o che per qualche motivo abbiamo sempre dovuto rimandare quindi l'augurio va bene perché ovviamente come dico sempre sono fatti a fin di bene a fin di è una formula fatta che si c'è qualcosa che rientra nelle usanze nostre ma fondamentalmente è abbastanza inutile perché non dobbiamo stare ad aspettare che tutti i pianeti siano allineati per portare a termine per realizzare qualcosa dobbiamo metterci di impegno ancora una volta l'evoluzione massima passa dalla dall'azione dobbiamo metterci in movimento per realizzare quello che vogliamo dobbiamo lavorarci sopra dobbiamo impegnarci e allora lì sì che arriveranno le soddisfazioni arriveranno magari anche le delusioni le fallimenti le cadute gli errori ovviamente questo fa parte della vita però poi verremo in qualche modo ripagati dal nostro impegno dal credere fortemente in qualcosa ricordatevi che come diceva giordano bruno è il pensiero che genera la materia non viceversa quindi se noi ci sintonizziamo sul voler raggiungere un obiettivo sul voler realizzare qualcosa che ci sta a cuore sul su tutto quello che è positivo per noi realizzare un sogno è una cosa appunto che che ci sta particolarmente a cuore tutto il mondo cospirerà per farcela realizzare ovviamente ci dobbiamo mettere del nostro però creiamo già nella nostra mente quella quel traguardo la creazione di quel traguardo fa sì che tutto tutto si mette in movimento perché noi riusciamo a realizzarlo quindi avanti il 2023 2023 sarà come noi vorremmo crearlo come noi ci impegneremo per far sì che sia un anno mitico un anno importantissimo guardiamo soprattutto a noi e alla nostra realizzazione tutto il resto non dico che sia secondario perché è giusto essere informati ma è meno importante è importante che ognuno di noi e quindi poi tante persone tutte assieme facciano qualcosa per realizzare i propri desideri quindi una persona soddisfatta più un'altra soddisfatta più un'altra che si impegna più i risultati raggiunti gradualmente fanno sì che andiamo verso una società più soddisfatta e quindi sicuramente meno meno problematica meno rompipalle permettetevi il francesismo se uno è soddisfatto di sé non sta a guardare quello che fa il vicino quello che fa l'altro non sta a spettegolare ed è contento così quindi lavoriamo per creare una bella realtà la realtà che vogliamo abbiamo questo grande potere sia nel l'avevamo prima l'abbiamo adesso e l'avremo anche in futuro tutto dipende da noi o quasi tutto dipende da noi ciao ciao buon 2023